Per inserire le porte e le finestre all'interno delle aperture che abbiamo creato, si utilizzano le macro che possono essere caricate o dall'interno, come abbiamo visto prima, altrimenti attraverso questo editor di macro, in cui si possono decidere i telai, tutti gli elementi che compongono la porta, per aggiungerli si utilizza questo pulsante, aggiungiamo il telaio, aggiungiamo per esempio un montante interno 50x50 e poi si possono eventualmente utilizzare anche altri strumenti, per esempio possiamo suddividere la finestra in quattro parti, 30x30, una cosa del genere. Dopodiché si può utilizzare quest'area qui per decidere i layer su cui mettere i vari elementi, altrimenti vengono tutti messi sul layer predefinito e si può anche decidere il tipo di rappresentazione che dobbiamo inserire sia per le porte che per le finestre. Ok, ecco qui la nostra finestra. Questa finestra si può poi spostare all'interno della sua apertura decidendo un intradosso. La finestra per esempio è 5 cm di spessore, abbiamo fatto con un intradosso interno di 25 cm, eccola qui, altrimenti la possiamo mettere verso l'interno, quindi con un intradosso interno uguale allo spessore, ed ecco la nostra finestra, andiamo a vedere come viene, direi che viene bene. Una volta fatto questo la possiamo distribuire un po' ovunque. Possiamo per esempio metterla simmetrica rispetto all'asse di questo muro che prendiamo subito. Per prendere un'asse basta tirare una linea. Utilizzando il pulsante destro del mouse, ogni volta che si è all'interno di un comando, si apre una tendina con i riferimenti di quel comando. Per esempio una linea la si può tracciare attraverso dei punti sensibili come il punto medio o il punto di intersezione, in questo caso utilizziamo un punto medio, si vanno ad indicare i due punti estremi e il punto medio è quello su cui va ad inserirsi la linea. Dopodiché utilizziamo questi comandi, sono i comandi per modificare gli oggetti presenti nella scena, spostarli, vuotarli, traslarli nello spazio, specchiarli oppure modificare i vari punti attraverso questi oggetti. Per esempio lo facciamo specchiato, indichiamo l'oggetto e premiamo in un punto a caso della linea, che in questo caso è l'asse. Ed ecco la nostra finestra specchiata. Altrimenti cliccando due volte su un qualsiasi oggetto architettonico col tasto destro del mouse, si accede di nuovo alla funzione finestra, in questo caso muro, la funzione dell'oggetto su cui abbiamo cliccato e tutte le caratteristiche vengono duplicate, in questo modo si carica una finestra esattamente identica a quella già presente nella scena. Qui la possiamo mettere anche qui nel punto medio di questa parete e cliccando invio si conferma la cosa, qui invece la mettiamo qua a un metro, sto mettendo ovviamente a caso perché qui non la mettiamo, qui ne mettiamo una qui a due metri e mezzo, col tasto destro del mouse si conferma sempre la funzione o con l'invio, mettiamo un po' a caso adesso, mettiamo anche una qua e una qua. Una volta fatto questo ci servirà anche una porta d'ingresso, andiamo nelle porte e creiamo l'apertura della porta. Porta rettangolare, larga 1,20 va bene, alta 2,20 ok, l'altezza parte dal livello inferiore e arriva a 2,20. Possiamo già caricare una macro, per quanto riguarda le porte è sempre bene avere delle macro già fatte perché l'editor delle macro per le porte è abbastanza semplice, normalmente fa porte un po' banali, però noi qui abbiamo già macro presenti, vediamo una bella porta, possiamo prendere questa, facciamo ok e andiamo ad inserire la porta in mezzo a questo muro. Invio, la porta genera, normalmente le macro hanno anche degli oggetti bidimensionali che rappresentano l'apertura, altrimenti si possono inserire sia porte che finestre, cliccando in questa zona dove c'è la battuta e si può inserire una di queste battute. Ora, la nostra casa ha le finestre tutte uguali, in realtà è un po' improbabile che tutte le finestre siano uguali, per esempio qua dietro ci può essere un giardino e quindi in questo caso possiamo andare ad inserire invece che delle semplici finestre, delle porte finestre. Per modificare basta cliccare due volte col tasto destro del mouse su una delle finestre, si riaccede nella zona di modifica e in questo caso si può per esempio andare a dare una altezza diversa, per esempio di 2,5, mettiamo che la finestra parta da zero, quindi una porta finestra, abbiamo già messo il suo bel parapetto, l'intra addosso. Andiamo a vedere la rappresentazione, qui abbiamo una bella porta finestra, possiamo anche cambiare il tipo di macro interna, in qualsiasi momento cliccando solo sulla macro, come in questo caso, e andiamo per esempio a suddividere la finestra invece che in quattro parti in sei, un po' più elegante. Per salvare le modifiche si possono salvare le modifiche di questa macro che si è inserita all'interno dell'elenco dei simboli o delle macro, però in questo caso non lo facciamo. ecco qua. Ora andiamo a inserire i bancali. I bancali sono come altre cose che poi inseriremo oggetti tridimensionali, questi si possono creare modellandoli o caricandoli da un catalogo come faremo noi in questo caso. Andiamo in ufficio, abbiamo questo davanzale, va benissimo. Questi possono essere inseriti utilizzando questi strumenti di inserimento, specificando per esempio un'emissione di un angolo, altrimenti l'angolo è quello in cui è stato salvato il simbolo, ma si può anche specificare il numero di copie, la scala, uno snap particolare dell'oggetto e così via. Andiamo a metterlo qui a metà e specifichiamo un angolo di 180 gradi. L'oggetto verrà ovviamente inserito nel punto di riferimento scelto al momento del salvataggio dell'oggetto all'interno del catalogo, che è una visione tridimensionale, il bancale è attaccato al pavimento. Dobbiamo spostarlo verso l'alto, utilizziamo il comando sposta, clicchiamo sul bancale, clicchiamo in un punto di riferimento qualsiasi e andiamo a specificare a questo punto una z, quindi un'altezza rispetto al suolo, di un metro, perché le finestre sono ad un metro. Ed ecco il nostro fantastico bancale, già posizionato. A questo punto dobbiamo distribuirlo ovunque, utilizziamo un altro di questi strumenti che sono forse quelli più utili in Alplan. Copia e gira, permette di copiare l'oggetto in un qualsiasi altro punto e di ruotarlo, in questo caso non c'è bisogno di ruotarlo e quindi specificheremo qui un angolo zero. Qui invece c'è bisogno di ruotarlo e lo ruoteremo di 90 gradi. Qua lo riportiamo a zero, quindi meno 90, in questo caso 180, qui c'è una porta a finestra, non serve il bancale, zero, 90 e zero. Eccoli qua i nostri bancali già posizionati. Si possono ovviamente posizionare anche persiane, cornici di porte e così via. Andiamo ora a fare il primo piano. Per fare il primo piano possiamo tenere il piano terra passivo sullo sfondo e andare a ricalcare i muri che ci sono sotto. eccoci al primo piano. Ora per ricalcare i muri dobbiamo prendere i muri con le stesse tipologie. Ogni oggetto architettonico presente nella scena può essere richiamato come prima le finestre cliccandoci sopra col pulsante destro del mouse due volte. Viene caricato la funzione, il comando in questo caso parete, con le stesse proprietà della parete su cui si sta cliccando. In questo caso, dato che il piano sopra sarà simile a questo, un altro modo è importarlo direttamente dal piano terra. Quindi ritorniamo nel piano terra, prendiamo l'intero piano, andiamo sopra, facendo CTRL-C per copiare e CTRL-ALT-V viene copiato esattamente nel nostro sistema di riferimento il piano sotto. Ovviamente gli oggetti tridimensionali presenti nella scena non andranno ad auto-posizionarsi sul piano di riferimento rispetto ai livelli standard di questo quadro, ma saranno posizionati rispetto a delle quote assolute, quindi dovremo spostarli verso l'alto o verso il basso a seconda del piano che stiamo facendo. In questo caso nella scena ci sono i bancali, che sono oggetti tridimensionali, saranno rimasti sotto. Li portiamo su di 3 metri. Ecco fatto. È sempre buona norma tenere comunque il piano sotto passivo o il piano sopra per avere comunque un riferimento su cui lavorare. Per esempio in questo caso qui mettiamoci un bel balcone che comunque si può sfruttare anche d'estate, quindi togliamo tutto ciò che c'è in questa zona. Come vedete sotto rimane la traccia del piano sottostante che è passivo sullo sfondo. Ricordiamo i muri attraverso queste funzioni e c'è rimasto praticamente il nostro terrazzo che dopo sistemeremo anche con una ringhiera altrimenti si casca giù. Ora il solaio di questo piano è esattamente identico al solaio sotto, ma in realtà mentre il solaio del piano terra è il solaio che è contro terra, quelli del piano sopra sono agganciati ai muri, quindi questo solaio lo dovremo spostare nella zona interna dei muri. Possiamo con questo comando spostarlo fuori dalla scena. Per posizionarlo all'interno ovviamente dobbiamo creare un nuovo solaio, quindi con le stesse caratteristiche, quindi clicchiamo due volte col tasto destro del mouse e ci spostiamo all'interno della scena del nostro edificio. Lo potremo posizionare cliccando su questi quattro punti per esempio, altrimenti attivando questa icona, la ricerca geometrica automatica, si può cliccare in una zona interna dello spazio e il solaio si va ad autoposizionare fino a raggiungere i limiti di questo spazio, come in questo caso. Eccolo qua il nostro solaio. Questo qua esterno lo eliminiamo, ci è servito solo di riferimento. Andiamo a fare le altre modifiche. Per esempio qui c'è una porta finestra a piano terra, a primo piano però vogliamo una finestra. Per copiare questa finestra in questa apertura, basta utilizzare questo comando, copia proprietà delle componenti di architettura, che è simile a copia formato, che copia il layer da un oggetto ad un altro, però in questo caso copia anche tutte le proprietà della componente architettonica. Clicchiamo qui, ovviamente riapre la finestra se si vogliono fare delle variazioni, dopodiché si clicca mettendo sempre tutti attributi nuovi sulla finestra che si vuole modificare e col pulsante destro del mouse si conferma. Eccola qua, ridiventata una finestra normale. Anche questo ovviamente diamo un bancale. Ecco fatto. Poi c'è la porta. Non è salutare avere una porta a primo piano perché si casca di sotto. Quindi o la trasformiamo in una porta finestra e ci mettiamo per esempio un terrazzino, ma abbiamo già un terrazzo qua, altrimenti la possiamo tranquillamente trasformare in una finestra. In questo caso, dato che in mezzeria è facile anche cancellarla e copiarne una nuova ed è anche più veloce rispetto al punto medio. Ecco fatto.